È stata l'assessore all'istruzione della Regione Campania, Lucia Fortini, a chiudere simbolicamente l'anno di attività e progetti di scuola viva presso l'Istituto Comprensivo di Santa Marina Policastro. Venuta a conoscere questa dinamica realtà e a toccare con mano i frutti dell'impegno regionale nel settore scuola, si è fatta travolgere da una festa ricca di contenuti, solarità e soprattutto ecologia. Per l'occasione il Parco del Cilento ha presentato in anteprima il secondo numero della Principessa Primula, serie didattica a fumetti pensata per sensibilizzare i ragazzi alla tutela dell'ambiente e in questa ultima avventura arricchito dalla ricetta per la realizzazione del sapone con l'olio, una delle attività promosse dalla scuola di Policastro. L'albo è stato consegnato dalla dirigente Maria De Biase all'assessore Fortini nell'ambito di un più ampio impegno sulle tematiche green che da sempre caratterizzano le scuole da lei dirette. L'Istituto di Policastro è tornato a dire la sua su temi attuali e importanti facendo buon uso di creatività e discipline accattivanti come la musica, il teatro, l'arte, il karate e la semplice manualità. L'estro dei giovani alunni e dei loro genitori si è estrinsecato nel modulo Made in Scuola dove hanno potuto realizzare manufatti con scampoli di pelle e altro materiale riciclato, musica e riciclo dove hanno potuto suonare con strumenti costruiti riutilizzando latte e tubi, la dieta mediterranea con la rivalutazione di prodotti autentici nostrani, nel modulo dal rifiuto a risorsa da cui sono emerse sorprendenti creazioni, in quello dedicato alla tessitura della ginestra, una tradizione tipica di casaletto spartano, offerta anche a Policastro nell'ambito di uno scambio tra plessi del medesimo istituto, e Libri Libera, un modulo che ha stimolato alla lettura e alla legalità con il sostegno dell'Associazione Libera presente all'evento con la referente provinciale Anna Garofalo. E poi rappresentazioni teatrali, mostre di pittura, cori, canzoni e balletti, il Giardino di Scuola Viva, come è stato intitolato l'evento, è stata l'occasione per mostrare anche le altre attività svolte, tra le novità di quest'anno e il coinvolgimento dei genitori con il modulo di educazione alla genitorialità che ha spinto gli adulti a riflessioni sul loro ruolo e sulle sfide da affrontare, e le attività dedicate ai piccolissimi, quelli della scuola dell'infanzia che hanno risposto con entusiasmo ad un progetto incentrato sulla manipolazione della creta e ad uno sull'apprendimento precoce dell'inglese.